Hai bisogno di un brodo ma sei di fretta? Prepariamo un dado vegetale a prova di principiante. Sedano, carota e cipolla. Li laviamo bene e poi li tritiamo grossolanamente. Se volete potete aggiungere del prezzemolo. Io metto spesso anche la zucca, da sempre un po' di dolcezza in più. Trasferiamo le verdure tritate all'interno di un tegame. Aggiungiamo l'olio d'oliva, mescoliamo e ci spostiamo sul fuoco. E lasciamo ammorbidire le verdure per 10 minuti. Trascorso il tempo aggiungiamo il sale, che dovrà essere un terzo rispetto al peso delle verdure. E lasciamo cuocere per circa 20 minuti con il coperchio. Trascorso il tempo ci spostiamo dal fuoco e frulliamo con un mini peamer. Fino ad ottenere una crema come questa che faremo asciugare sul fuoco. Poi la spostiamo in un contenitore in vetro con carta forno. Livelliamo, la lasciamo raffreddare e via nel freezer per almeno 12 ore. Quando si sarà solidificato ricaviamo i cubetti di dado vegetale. Io lo conservo sempre in questi sacchetti riutilizzabili. E il brodo per la mia famiglia è pronto in un attimo.